Io ringrazio la città di Aosta di questa meravigliosa ospitalità che ci ha dato oggi. Sono anche noi onoratissimi di avere questa manifestazione, noi tutto ciò che si può fare per migliorare la coesione sociale, per far star bene noi stessi e gli altri in qualsiasi campo del soccorso, della salute, benvenga per noi. Io credo che tutte le nuove generazioni debbano vivere questa serie di esperienze. Quando c'è Ampa si è organizzato in modo impeccabile con il concorso di tanti volontari che mettono passione ma anche molta professionalità. Bisogna essere corretti nei comportamenti anche quando si è semplicemente seduto in macchina, quindi lanciando le cinture, veramente complimenti per questa bella iniziativa. Con tutti quei ragazzi, quelle ragazze che devono assimilare, fare coscienza di quelli che possono essere i rischi di una guida irresponsabile, non solo delle macchine, delle moto ma anche delle biciclette, dei monopattini, quindi capire quali sono i rischi a cui si va incontro. Mauro, hai capito a che serve la cintura? Eh non so!